Ciao a tutti amici del mio canale, sicuramente avete sentito parlare tante volte delle spazzoline elettriche io vi faccio vedere quella che possiedo, non è la Clarisonic perché costa parecchio quindi quella non l'ho comprata ancora e ho trovato un'opzione molto valida questa è della marca Inolivi questa marca qua questa spazzolina elettrica arriva già con le batterie incluse quindi te le danno loro sono quattro batterie, quattro pile e si apre e si chiude così mi faccio sentire subito come va è già un po' scarica, un po' assaurita di pile perché io l'ho utilizzata veramente tanto ed è questa qua è molto comoda si prende bene si fa le pulizie si detelge il viso, si fa le pulizie serale le ho al mattino io lo utilizzo sempre alla sera perché al mattino trovo non ne ho bisogno visto che al dormire non ho il viso truccato quindi non sono così sporca da togliermi invece alla sera dopo lo struccaggio ragazzi noi ci strucchiamo pensiamo di essere ben struccata invece quando passo questa spazzolina qua viene tutta scura cioè c'è ancora trucco sulla pelle e ha questa spazzolina molto morbida ma non è l'unica ne ha altre tre è fatta in questo modo questa è per il corpo questa è una pom e questa è per esfoliare il viso allora vi voglio leggere quello che c'è scritto sulle spazzoline questa qua grande no questa qua dice che è questa che uso normalmente che la utilizzo normalmente dice spazzolina per le pulizie ha sedole ultra soft appositamente progettate per la pelle delicata del viso per un miglior risultato inumidire sempre il viso e la spazzolina prima dell'uso l'altra spazzolina questa qua per esfoliare dice setole igieniche ad asciugatura rapida progettate per rimuovere le cellule morte della pelle del viso per ottenere un risultato migliore si consiglia di detergere il viso prima di esfoliare invece questa pietra pomici questa qua si utilizza fondamentalmente diciamoci storia fondamentalmente per amolvidire la pelle dei piedi e dei gomiti rimuove efficacemente i calli e duroni non si utilizza non usare pelle del viso aria del colpo particolarmente delicata invece questa per il colpo corpo corpo io ogni tanto cambio la R per la L scusatemi spazzolina per il colpo estende i benefici della pulizia profonda profonda all'interno all'intero colpo perché dico colpo sembra colpo colpo questa testina più grande è la dimensione ideale per la pulizia profonda di braccia schiena e gambe quindi questo set viene composto così questa viene praticamente qua e questa spazzolina qui che anche a rimuovere per lavare è molto facile vi faccio vedere in teoria così si rimuove a questi tutti questi cosettine qua che la fanno proprio aderire perfettamente e togliere quindi per lavarla non avete nessun problema basta staccarla e poi la cosa più bella è che l'ho pagata 7,90 euro yes perché l'ho presa nelle cose di Lila Poix nelle cose di Lila Poix quando ci sono queste offerte così magari la trovate ancora in teoria mi sembra costasse 21,90 se non erro non sono proprio sicura però più o meno era quello il prezzo si girava intorno a quello e poi l'ho pagata 7,90 perché avevo fatto la spesa quindi mi hanno dato questo bonus e quel giorno c'era proprio la la promozione che se spendevi tipo 20 euro di spesa questa qua veniva 7,90 euro io mi sto trovando bene perché trovo che mi deterge bene dopo che io mi strucco io mi lavo la faccia mi metto il gel con cui mi lavo il viso la passo dappertutto e lei viene si sporca oltre dico vabbè sono già struccata invece passando lei si sporca di nuovo quindi vuol dire che è molto profonda la pulizia con questa è morbidissima sembrava talmente morbida che io pensavo fosse troppo poi ho detto poi quando l'utilizzi è giusta la morbidezza che ha secondo me perché di più non bene c'è quella lì per sfogliare che è apposta e niente ha 5 anni di garanzia guardate questo è il certificato 5 anni e la marca è questa qui inolipi botò botò in francese non lo so pronunciare e questo comunque viene 6 dei 4 4 pezzi più 1 che sarebbe questi 4 pezzi più l'apparecchiatura e niente questo era tutto volevo solo dirvelo perché se la trovate in offerta 7,90 euro è buonissima meno di quello se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici commentate se vi va iscrivetevi se non l'avete ancora fatto adios